Allenatori, buongiorno! Oggi, venerdì 13 settembre, è uscita la nuova espansione di Pokémon Scarlato e Violetto, Corona Strale. Prima di iniziare, ragazzi, vi invito a iscrivervi e a lasciare un bel mi piace. Commentate qua sotto con quello che secondo voi è l'artwork più bello di questa espansione. Io ve lo dico già, per me è Bulbasaur. Ora non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a spacchettare. Ecco qua il nostro box, pronto per essere aperto. Via la pellicola. Come lo fermo, sto coglione! Beh, dopo questa interruzione, spacchettiamo. Ovviamente il nostro obiettivo è trovare il Terapagos, o come si chiama. Vediamo. Tiriamo fuori tutte le buste. Godiamoci un attimo l'artset completo. Beh, se devo dire la verità, la bustina, questa qua, è veramente figa. Fatemi sapere voi quale preferite, così giusto per... Vediamo. Ora spacchettiamo e vediamo cosa ci aspetta. Ragazzi, siamo pronti. Si inizia. Prima bustina di Corona Strale. Vediamo come va. Codicino per voi. Bella l'energia. Energia metallo. Utut. Indimp. Tauros. Crabblower. Vikavolt. Azumarili. Double. Tirtuga reverse. Subito. Attenzione! Attenzione! Subito! Subito! Noctow Lolo. E... Bellissimo. Subito uno dei miei Arthur preferiti del set. Questo è il mio cane. Non so se si sente, ma zera ora tanta tanta roba. Ora, slivettina e top loaderino. Mi raccomando, la conservazione delle carte. Sempre sleeve e debate uploader. Che così si conservano meglio. Eccolo qua. Il nostro zera ora. Primo pull. Si diceva che chi ben comincia è a metà dell'opera. Continuiamo. Bustina Terapagos. Let's go. Let's go. Let's go. Sempre codicino per voi. Energia Erba. Grabbin. Varum. Driflon. Link. Mishao. Gemma Gravitazionale. Eldegross. Krabblower Reverse. Tokedamaru Reverse. E Green Ninja Iax. Ok. Ok. Subito doppio. Cioè doppio. Uno dietro l'altro. Piano piano. Proseguiamo nella nostra spacchiettata. Vediamo cosa ci riserva questo pacchettino. Codicino per voi. Energia Eletro. Corban. Ladybug. Minfo. Flittle. Mewtwo. Bellissimo. Krabominable. Talon Flame. Curia Tonante Reverse. Charcadet. Alcremi. Prima bustina diciamo liscia. Ma d'altronde in un box 36 buste non si può mica sperare di pullare tutte le bustine no? Quindi vediamo. Si prosegue nella nostra ricerca. Codicino per voi. Lotta. Duraludon. Urugli. Tirtuga. Meltan. Coraydon. Tornadus. Algaro. Eldegoss Reverse. Girachi Reverse. E Ladybug. Olo. Tu fammi trovare Bulbasaur. Sarai un bambino felice. Molto felice. Codicino. Buio. Utut. Indim. Tauros. Krabblower. Eros. Fettamento. Selvaggio. Codicino per voi. Sono energia a fuoco se lo so. No. Cannato. Sicco. Chinchou. Tirtuga. Espatra. Glamio. Salasol. Vabbè. Ho visto un pull. Quindi si gode. Lanturn. Albero. Maestoso. Chargabag Reverse. Zero ora. Olo. Bene. Secondo pull. Guardate il testo di questa carta quanto è lungo. È un papiro. Non è un testo. C'ha 2000 effetti. Vabbè. L'importante è pullare. Sempre quello eh. Questa è energia a fuoco ma l'ho vista. Sto imbrogliando. Lo metto. Tal. Eh no. Fletchinder. Finneon. Tauros. Fidug. Slocking. Celebi. Lanturn. Raidon Reverse. Merrill Reverse. E Cradilli Olo. Cradilli Olo già primo doppione. Andiamo avanti. E questa è un'energia acqua. Vediamo. No. Ho cannato. Confi. Chuttle. Vulu. Finneon. Revarum. Tromba di vetro. Dai. Yansi. Diansi. Driftblume Reverse. Revarum Reverse. Questa sarebbe essere una IEX di quelle Terra Crystal. Galvantula. IEX. Molto carino. Molto carino. Noi vogliamo l'altro ma... Vabbè. Sappiamo anche adattare voglio dire. Prendi e porta a casa. Proseguiamo. Proseguiamo nello spacchettamento. Andiamo andiamo. Un po' di cino per voi. Sempre comunque. Energia. Elettro. No. Confi. Chuttle. Vulu. Finneon. Svolot. Mewtwo. Pangoro. Tornadus Reverse. Grimma Snarl Reverse. E zero ora. Olo. Tu. Tu che stai guardando. Frega per me e la bustina di Lapras per trovare qualcosa. Per favore. Un pull per noi. Un pull per noi. Su. Ah scusate. Stavo lanciando il codicino. Codicino. Energia. Oh raga. Sempre un turno dopo di quello che dico io arrivo. Epplin. Crabbler. Vulu. Salandit. Todd. Scruel. Urca. Misero. Ho visto il pull. Sono un casino. Dian C. Togged Amaru. Cristallo. Scintillante. Velusa. E Massoferreo. Due Ace. Attenzione. Attenzione. Ho fatto casino nello spacchettamento. Proseguiamo, 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 proseguiamo nello spacchettamento. Codicino. Energia. Psico. No. Dopo dirò psico perché uscirà pancia. Charjabug. Salandit. Yammask. Giraci. Electiver. Velusa. Secrets al reverse. Bombardier al reverse. Massoferreo di nuovo. Spacchettiamo questo raga dai. Spacchettiamo roba serie. Fa culo coronastral. Scherzo. Era un meme. Non lo spacchettiamo. 10.000 iscritti. Entro ad Halloween. Lo spacchettiamo. Io non l'ho mai detto però. Continuiamo a spacchettare. Il mio videomaker mi guarda male e mi dice anche che sono un coglione. Codicino. Energia. Ah, ho detto psico prima, quindi psico è adesso. Anseer. Carnival. Paumi. Rotom Vortice. Svolot. Baccaia. Bacca. 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 Baccaia. Anciam reverse. Entrang reverse. Bufalant. Holographic. Vediamo, vediamo se troviamo qualcosa di gustoso. Codicino. Energia acqua. Eppling. Letchling. Fallings. Urugli. Abisso zero. Giraci. Eshiram. Mewtwo reverse. Luminium reverse. Seguiamo, piano piano, siamo neanche a metabox. L'importante, io l'ho detto, io voglio trovare, eh, quello qua, Garganacle Iex. Voglio trovare Bulbasaur. Se trovo Bulbasaur, sono soddisfatto. Se non trovo Bulbasaur, devo trovare una carta che mi soddisfa. Se no, non sono soddisfatto, cioè. Se non capito. Se sono soddisfatto, sono soddisfatto. Se non sono soddisfatto, non sono soddisfatto. E per essere soddisfatto, devo trovare Bulbasaur. E se non trovo Bulbasaur, non sono soddisfatto. Però io avrei messo confusione. Quello era l'obiettivo. Energia lotta. Buio. Lili. Bene, vale. Scavo scherzando. Andiamo avanti. Scodicino. Energia psico. Questo si scula, raga. Questo è un pacchetto sculato. Gulpin. Grievard. Raiden. Morgrim. Baccagao. Vikavod. Azumarill. Vulu. Ragazzi. Bello. Crabominable. Bello. Questo è bello. Bellissimo. Molto, molto, molto bella. Molto, molto bella. Bella, 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 bella. Proseguiamo nella nostra spacchettata di coronastrale. Che per il momento ci ha dato discrete, discreti segnali di sculo. Discreti. Raboot. Rotom Taglio. Ivi. Riolo. Drif. Blim. Rapidash. Reva. Room. Masso Ferrio. Revea. Attenzione. Abbiamo una gold. Tirapagos gold. Tirapagos gold. Lo abbiamo trovato. Non quello giustissimo, quello giusto di mezzo. Quello giusto di mezzo. Ovviamente tagliato da Bocelli e suo cugino. Adesso se lo facciamo rivedere per bene. Eccolo qua. Tirapagos gold. Trovato. Andiamo dietro come sta messa. Dietro è anche abbastanza centrato. È davanti che è tutto storto. Bello però. Mi piace. Mi piace non poco. Devo dirlo. Devo dirlo. Una bella carta dai. Pokémon un po' strano. Se devo dire la verità. Ma no. Vabbè. Questa è un'energia lotta. No. C'è. Gossip. Double. Svolo. Mewtwo. Repair. Reverse. Svolo. Puratonante. I Pokémon come terapagos come tanti di Pokémon nuovi sono un po' lontani dai Pokémon da cui sono stato appassionato io. Nel senso che per me i Pokémon sono quelli della prima, della seconda, della terza agenda. Dopodiché hanno un po' perso come dire la forma e anche i nomi dei Pokémon. Però alcuni sono carini dai. Alcuni. Pochi. Rotom Taglio Reverse. Meltan Reverse. E Daxboon Full Art. Bello. Bellino, bellino. È il cane fattone Daxboon secondo me. Carino. Vediamo. Vediamo, vediamo. Codicino. Gerba. Rocchi. Ediba. Rotom Vortice. Ninfo. Pangoro. Eldego. Salasol. Sloking Reverse. Azumarie Reverse. Carracosta. Olografico. Codicino. Energia. Elettro. Milceri. Merrill. Ryer. Onita. Giraci. Reshiram. Lapras. Pollinks Reverse. Spansier Reverse. E Kling Klang. Olografico. Codicino. Energia Buia. Rotom Taglio. Scorbanni. Bossi il Tappo. Panciam. Progadir. Drif Blim. Gemma Gravitazionale. Tollscrew Reverse. Bacca Cacao Reverse. E Meltan Ex. Soddisfatti? Non lo so. Ho trovato Bulbasaur? No. Quindi? Secondo voi lo sono? Non ho tolto l'energia. Mi sono dimenticato. Grubin. Varum. Driflum. Link. Rupi. Maruak. Bacca Cacao. Reverse. Levantula. Ex. Gray Ninja. Ex. E poi in ordine di importanza abbiamo Cristallo Scintillante. Una Ace. Albero Maestoso. Un'altra Ace. Dax Boon. Ex. Pull Art. Poi abbiamo trovato Krabbo Minable o Krabbo Minable Alternative. La mia preferita fino adesso 0 ora. E diciamo quella un po' più così spicy. E l'Apagos. Gold. Questo che l'abbiamo incontrato fino adesso. Andrà meglio? Andrà peggio? Non lo so. Proseguiamo. Poi vicino. Energia. Erba come Bulbasaur. Poco. Aplin. Fletchling. Pollings. Purugling. Eldegoss. Salasol. Frogadier. Dianseer Reverse. Scorbanni. E Medicam. Ex. Energia. Acqua. Erba. Dipping. Anseer. Meditite. Clink. Giraci. Tromba di vetro. Luminion. Todskull. Rupi. Nada. Al banco. Per favore. Dio delle carte. Per favore. Dacci Bulbasaur. Dacci Bulbasaur. Non chiediamo tanto. Non chiediamo tanto. Chiediamo solo. Solamente Bulbasaur. Fidug. Charcadet. Klang. Cyclizar. Driflim. Gemma Gravitazionale. Coraydon. Utut. Reverse. Rabut. Niente. 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 Codicino. Energia Metallica. Trottanetor. Indim. Dai. 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 Te la pago CX. Non l'abbiamo ancora trovato. Quindi diciamo che di base non ci lamentiamo. Però. 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 Vorremmo. Lo diciamo. Lo vorremmo. Lo vorremmo. Provare Bulbasaur. Quante volte l'ho detto in questo video? Counter. Scritto qua sotto nei commenti. Chi indovina. Vi regalo Bulbasaur. Codicino. Energia Erba. Facculo. No. Cosa sto facendo? Gulpin. Griever. Raiden. Morgren. Tornadus. Algaro. Sloking. Coraydon. Reshiram. E Rhyperior. Adesso. Sperate cosa dovete fare qua? Il code pack. Spacchettare tutti insieme. Ma. Lo farò? Non lo farò. Lo farò? Sai sapete quando? Quando faremo 500 like a questo video? Faremo un video in cui spacchetti un intero box di corona astrale. Aprendo tutti i pacchetti. Mettendo tutti i pulli in una unica pila. E lo apriremo così. 500 like. Io l'ho detto. Codicino. Energia Erba. Cubano. Milchery. Glameo che sta a mangiare i fiori dalla vicina. Charjabug. Velusa. Rhea. Voglio urlare. Voglio urlare. Dai. 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 Gossifler. Cubone. Nineball. Onimbo. Come cazzo chiama? Slowpoke. Teleby. Lanthorn. Toadscrewal. Reverse di Slowpoke. Reverse Salasol. Dreadnought. Allora facciamo così ragazzi. L'ultimo pacchetto lo farò ad aprire l'Alex che mi troverà Bulbasaur. Sì. Se non me lo trova lo licenzio. Ho sbagliato. Un dettaglio. Ho tratto su due pacarte. Quella è una energia a fuoco. Grabbin. Grievard. Joltic. Double. Pangoro. Piros. Reverse di Fletch. Schinder. Paumi. E Melmetal. Non dico niente. Non dico niente. Parlare è inutile. Noi vogliamo solo i fatti. Vogliamo trovare l'alternativa di Bulbasaur. Gelotta. Frochi. Ladybug. Rotan Vortice. Minfo. Le opportunità diventano sempre meno. Diventano sempre, sempre meno. Energia di erba. Già ci avviciniamo. Todsquare. Chinchou. Yamask. Bombirdia. Talonflame. Abisso zero. Krabbin. Talonflame. Varum. Questa e altre due bustine. Siamo vicini al fallimento. E niente raga. Oggi tiro giù le doppie carte. Non c'è da fare. Rotan Taglio. Dai, 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 dai. 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 Sì. Sì. No. 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 Il cosino di Drake. Questo è il cosino di Drake. Non possiamo dire quella parola. Però è il cosino di Drake. Allora. Ultimo pacco aperto da me. Dopodiché l'ultimo. Nelle mani magiche di Alex. Che sicuramente farà danni. Però fa niente. Noi li vogliamo bene così. Riolu. Le Chonk. Mio fratello. Revaru. Lapras. Michau. Reverse di Griviar. Diutol. Ma cos'è? Viros. Viros. Gli volevo Bulbasaur. Gli volevo Bulbasaur. Mettiamogli un'altra peloderina. Vabbè dai l'alto perché pure carino non ci si può dire niente. Bene. Magna l'alto. Prima di aprire l'ultima bustina. Devi lasciare un like e iscriverti al canale. Perché se no non mi pagano. A me è lì la telecamera. Ciao. Allora io non sono bravissimo a spacchettare. Ci pensasse in questo momento. Attenzione. È fortuna che lo pago per fare i video e non per spacchettare. Allora. Fodicino per voi. Facciamo questo trick. Io sono esperto di Pokémon. Energia... Non me ne intendo. Andiamo diretti. Io non leggerò i nomi perché sono bravo. Veloci, rapidi e indolore. Non ci sarà nulla. Oh. Oh. Buono. Buono? Buono. Buono. Non il top. Attenzione. Attenzione. Le mani. Le mani dell'Alex. Galvantula. Non è il top della versione top ma... Attenzione. Le mie mani sono abituate a editare video di solito. Attenzione. Galvantula l'ultimo. Non è Bulbasaur. Ma ti sei salvato il posto. Va bene. Va bene. Vai a editare video. Ragazzi, ci vediamo in cantina. Allora. Sono tornato in postazione. Recapino. Non male. Non male. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pull. E... 2, 4, 6, 7 EX. Non male. Recapino. Partiamo sempre dalle EX. Coso di Drake. Therapagos EX. Medicham EX. Melmetal EX. Garganacle EX. Galvantula EX. Gray Ninja EX. Questo è lo scintillante Ace. La Ace di Albero Maestoso. Il Dax Boom Full Art. Il Cabo Miabile Alternative. Lo Zero Ora. Mia carta preferita di oggi. Hyros. Il Cuoco dei Pokémon. Therapagos EX. E Galvantula EX. Ragazzi. Abbiamo finito. Abbiamo rivisto i pull. Non è andata male. Sono contento. Vi ricordo. Qua sotto in descrizione. Gruppo Telegram. E vari social. Fatemi sapere se anche voi spacchetterete questo set. E cosa troverete. Per il resto vi ringrazio. Vi auguro un buono spacchettamento. E ci vediamo in un prossimo video. Ah! Aiuto! Grazie. Grazie a tutti.